un altro blu che palle mai un bel verde rosso da schiaffeggiare a colpi di counter ire di dio volevo ricordare che non abbiamo counter dai a seconda in tutura dai giochiamo a testa di cazzo siamo fortissimi giochiamo a testa di cazzo giochiamo a testa di cazzo cos'è? troppo a due cos'è? ah con cosa messo in sospensione si 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 il rip twing che cosa fa quando entra? boh ah fa contro contro minchia fa into the royal vabbè che se ne frega a fare un balzino che gare che a sto ne frega doppio nero into? si si maletta dai mo scarta comincio a votare la manina che blu in svantaggio carta e sta sempre male ah niente cosa facciamo? counter it magari a day cos'è che ha messo giù? magari aveva day ma guarda cosa ha piccato questo infame che maledetto la trune in nemesis ma sei proprio un nemesis sei proprio un tritone no cosa stai facendo? vabbè la wasteland abbiamo soltare base aspetta 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 vabbè vindicate stai calmo ci abbiamo due remover va giù anche quello adesso abbiamo due carte in mano di voi sdiagiti ahahah Tomo p-rex revoker vindicate no questo no se calmo please vabbè vabbè figa ok sbada babam tomo il tuo bel ifrit che se ne torna nella lampada babam bam babam babam cosa darà impasto al nostro vindicate ora o piccolo o muncolo quando è che gli entra il il cavolo la il prossimo turno gli entra quindi noi cosa cosa fai blue spell and red spell you cast cost one less che rigenera ma cosa che cose sono ste cose noiose mi tira un po' il culo eh fare un vindicate lì sopra no gioca un revoker piuttosto e nomina naiscape milliar così le sue abilità non le usa proprio proprio va bene va bene è un' abilità attivata quella del si attiva quando si no innescata stiva quando entra in gioco ah allora non può rigenerare mo fissa ci sono tutte le carte di magic ma cosa vuol dire nightscape come si chiama è quella c'era 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 facendo buzz nightscape familiar famigliare siamo fortissimi col cazzo dai che tradutarle entra letter lì ipe 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 ed entra un bella che ci rimbalzi il revoker l'avevo detto anche e vabbè ma che peccò allora due due volare dai revoker certo così si attaccherà con un 1 1 bitta bitta col tuo nightscape familiar e vai c'ha flash perchè ha rapidità e perchè ha rapidità ma rapidità c'era scritto anche prima c'era scritto anche prima poi non sono perso che è rapido un fulmine ci ha colpiti tre dannos per nosotros questa è molto buona perchè noi adesso facciamo questa e ogni volta che lui farà qualcosa noi la distruggeremo facciamo ancora il revoker si cosa abbiamo pescato la pienura si ce lo countera catena un counter lo ha fatto? ah la rigenera vabbè cosa vuol dire perchè l'ha rigenerato? non ho capito non ho capito la mossa siamo già sotto due minuti al tempo noi eh con questa storia del nightscape familiar dai ecco fai la valle di lacrime odio boh cosa facciamo? oi cosa? si va bene scusa no perchè ho visto wasteland e nightscape dove cazzo è? ma se scorresse un po' meno ecco la i grande ah rigenerata così alla cazzo? ma si che fai? che fai? che fai? ah questo è forte boh e insomma Nicola il bolasso e dove è che ne mette? dobbiamo dividere due pile e poi? lui ne mette una nel cimitero in mano living death è un reanimator è un reanimator living death cosa fa? poi ritiri su una roba dal cimitero io farei così ma la prima e l'ultima le metti giù almeno lui sceglie lui sceglie così basta questa qua e questa qui dread war così farei no sta scegliendo lui che cosa scegli? scegli setinere Nicola il bolas o la Strix la Stix Strix Strix la bella fulla Strix bruttissimo questo disegno tutta la vita quello originale si dai uama no ok almeno che non sia cosa che deve rigenerare ha buttato via Nicola bravo va bene ha un counter eh attenzione il counter si ma il counter veniva giù con 2 blu se non sbaglio si poi possiamo pagare 2 per eliminarlo mi sembra non c'è niente si ma lui c'è al fuore del terrore abbiamo 6 mana non possiamo mettere giù letterlink no no infatti infatti c'è niente vindicate no spacchiamo nel caso attacchi si mettilo giù vabbè si ok questo è un 3-2 intanto eh attacca lui c'è 1-1 attacchiamo perché paolo bitta questo distrugge dopo che hai colpito eh dopo che lui ha colpito dopo che lui ha colpito dopo che lui ha colpito c'è i danni te li fa teniamolo a mente sbam ok 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 è forte sta cosa ok quanto gli rompe le palle quella spiega meglio ah si e poi ti dirò siamo sfigati perché dobbiamo pescare isola anche se so che la pescheremo adesso quel counter la veniva giù con 2 blu se non so cioè tu devi spiegarmi perché lui che è lungo come l'anno della fame a giocare è a 2 minuti più di noi cioè è lungo per sempre sto qua a giocare attacca ok dai attacca te lo scardiniamo quel bagaglio di merda dai 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 si ok vai tiè briz briz bello ci sta si attacchiamo si no 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 perchè no no la tua coletale lui vabbè gli scardiniamo una sticks e questo scardina con questo si ma dopo lui può rigenerare col nero quello adesso lo tieni stappato ahhh bravissimo bravissimo sei proprio un sei proprio un pro player un pro minchia un promiscuo gli tappi tutto o no? no ricaviamo la questa la strix baleful strix sempre lenti record noi siamo lenti come l'anno della fame siamo lenti come la puzza con questo mazzo come la pauzza la pauzza did you know what? ci serve ci serve solo un isla beh ne hai fatta uno noi nell'uno in game 1 eh esatto ma in game 1 abbiamo fatto un brutto errore un marrone eh si un marrone abbiamo fatto un marrone attacca il bomber o no? vacca ci attacca vacca ci attacca vacca e va bene perderai la tua strix non so se sei così contento di sbadabam sbadabam si subito senza ritegno o alcuna pietà cazzo forte quella bagaglia lì eh cosa fai? tappi due cosa fai? fa la cosa? no la vendiglia non ce l'abbiamo noi e vai per cosa? cosa tira? cosa ti cos'ha? questa? boh ok secondo me non c'è un cazzo e così di flash l'ha calato? nel suo turno? non meriti di perdere se non tiri niente eh no tira ah oh le rimetti in gioco? no si no? tutte? è così forte? ma sei sicuro? è così forte il wing hand? beh vabbè andiamo a leggere dopo se mi frega posso andare a vedere le esiliate? porca troia non mi fa vedere le esiliate che cosa fa? each player ha ah ah è forte sembrava unire di dio andiamo a pescare dai ah beh ci ha fatto anche tornare su questa? si anche perchè noi abbiamo è forte beh questa tappiamo beh vabbè questa intanto no giochiamo K ok guarda di K no dobbiamo pescare la ma abbiamo questo e li tappiamo questo turno con turn about ok si ma lui può fare counter lui può fare counter quindi? lui può fare counter? cos'era quel counter là? se dovevi tappare quanto? allora aspetta dobbiamo ah allora non possiamo tappare niente perchè? perchè se tappi nero e vedi perchè no bianco dai prova beh siamo forti stiamo lì stiamo così il merulio atterrà terramanope ora questo sotto direi no fai una cosa eh veloci pesca di K e giocata in wolf perchè? dici? ah che ha stai ragione allora aspetta ok questa sotto si poi catastrofe poi questa giusto? si ma non vediamo catastrofe deve essere la seconda deve essere ah perchè ripeschiamo di K allora dove accada eh? noi peschiamo il time walk peschiamo il time walk esatto lo giochiamo si cosa hai? non ce l'ha vindicate vindicate spacchia niente con vindicate no c'ha niente no siamo proprio al pelo rigiochi K peschi di K giusto? esatto spegnendo il fatto bene perchè non possiamo guardare vai non possiamo guardare oh 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 dai no no vai si cazzo siamo fortissimi siamo dei pro player siamo troppo forti no no ma quanto costa il counter? dai no goli facciamo cagare siamo delle fuppe siamo delle fuppe noi dovevamo fare vindicate sull'anda non ci credo eh si dovevamo fare vindicate sull'anda no lo sappiamo fare cazzo non siamo veramente all'altezza no no e la concediamo? si si non sappiamo non siamo veramente all'altezza avevamo la sfinge dopo no però ci fa troppi danni no niente dovevamo fare vindicate sull'anda dovevamo fare vindicate sulla terra cazzo che rimaneva con una terra e non faceva il counter ma che cazzo ne sai? eh uno che sa giocare no uno che sa giocare lo sa uno che sa giocare lo sa abbiamo fatto merda abbiamo giocato male cinque tanti le hai un hai hai uno che hai 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 Grazie. Ciao, ciao, ciao. Salutato il generale su quella collina. Giara le prese con la sua catena vedalken. Quella non è una donna, signori. Quella è una catena vedalken. È un'upupa. Sai che l'amorosa di Grillo la chiamavamo lo sfondacranio? Non so che andrei in rete questa cosa, ma me ne fotto. Il butterscull? Sì. Buono, lo sfondacranio. Ma Grillo... Poi peraltro pensò a sua tipina che era tutta piccolina, bassettina, carina. Lo sfondacranio. Era un qualcosa di indescrivibile. Era un po' pesa. Era peggio del Polucranos. Mettiamo spada così senza che... Così, la mettiamo lì. Per stare... Dalla banda del frumentone. Del ferme... Oh, se c'è la counter siamo felici, eh. Dai, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Cioè, ma noi non vinciamo mica di spada, eh. Come no? Dobbiamo ancora vincere, ecco perché non abbiamo vincito. Esatto. Perché abbiamo calato spada. Va bene, dai. Lui sputtana counter, io sono felice. Non sono queste le nostre cose più giotte. Questa è una delle cose più giotte. Cazzo, riusciamo ad avere l'onore di giocare questo bagaglio di counter. Vi direi che sicuramente questa pollute delta andrà a prendere palude. Eh, sì. Toda la vita. Toda la vita. Ti chiamano lì. Ah, sono libero anche stasera. Sei libero? Non facciamo un altro, vai. Solo dei cubi. Ma vuoi cubi? No, no, dai. Buono, sono uguale. Non vuoi. Come volete. Oh, per me posso fare anche... Dai, mo. Non è male questa, eh. No, gli facciamo un bel counter. Buy back e scartiamo due, eh. Cosa dici? Scartiamo questa e questa. Pensa a te che sfiga. Perché no? Se no glielo rimbalzi e peschi. Sì, esatto, dai. Ok. Rimbalzi e peschi. Lui attacca e tu rimbalzi e peschi. E sei fortissimo. Gli lo fai adesso? Sì. Che è tutto tappato? No, quando sta lui? Così abbiamo... Quando attacca, adesso. Sbam! Ok. Molto bene. Molto bene. Dai che li la facciamo scartare. Dai, dai. Chissà il tipo che faccio content. No, non li abbiamo fatto scartare. Cos'è che ha scartato? Prophetic Bolt. Quattro danni. E l'altro cos'era? Dubo? Luca, il top for carrile library. Fiscia. Forte. Niente, noi accumuliamo minuti di distacco come tempo. Adesso lì cala la capra e attacca. Di voi siamo forti. Guarda, farei il count. No, no. Counteriamo. Ma no. Perché dobbiamo scartare il re di dio. Più tanto facciamo il re di dio. Se no non la riprendiamo in mano. Beh no. È il top. È il top dei top e riprendiamo in mano. Dai, ha quattro danni. Come vuoi? Mi tiriamo un miro di dio. Boh. Dai. No. L'hai fatto. Strappaci sti quattro danni, dai. Pezzente. Faccettina di culo imbalsamata. Neh, però figa. Dai, ma che vaffanculo. Va bene, scartiamo terra così. Adesso facciamo questo. Adesso non è il top e rimane per i counter. No, va bene. No, va bene. No, i caratteri siamo fottuti. Ora teniamo open e ci prenderemo altri quattro schiaffi. Esatto. E scartiamo due lande. Sì. Sì, proprio, proprio. Sì, proprio, proprio. Sì, proprio, proprio, proprio. Sono bella, eh, spedio a fare di dio. Sarebbe una figata. No, Armageddon. Allora, sì. Yeppe, 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 yeppe. Non tira niente. Dai, caga qualcosa. E nulla di ira. I razza? Dai, sì. Non gli fa troppo male, quello lì, eh. Vai. Ce l'ha al counter. Avevo, avremmo perso. Mi frega. È nata male questa percoglie. Cast mi frega. Bravo, bravo. Su cosa? Ah, quello là. Anche qua non siano stati forti. Eh, non potevamo tappargli, non potevamo tappargli, è vero. Comunque non ci avevamo pensato. E lui adesso ci fa sei danni. Stiamo come il cazzo. Minchia, non vinceva neanche una. Neanche un game, proprio. Oggi siamo proprio forti. Ma non abbiamo mica un brutto mazzo. Solo che... Go. Beh, l'altra volta... Veniamo puniti dalle sviste, come il legacy, eh. Come era fatto il... Il legacy... Fa dare in d'occhio... Il legacy le sviste puniscono. No, Nicole Bolas è Liliana, lui. Niente. È forte. No, ma è ready counter. Lo lancio rapido. Ah, ha fatto qua il mazzo. Dai, il terzo è la partita delle fuffe. Ce la faremo? Eh, le soluzioni non mancano nel mazzo. Adesso vediamo cosa peschiamo. Te... Ah, se non peschiamo le risposte abbiamo perso. Ne abbiamo... Ma che botta. Figata. Dai, dai. Metti su te... In fase di pre-combat. Mi ha mica perso, eh. Ho il PSD. Questa non abbiamo mica perso. Voglio che tu ti renda conto. Non abbiamo mica perso. E noi risposta a... Peschiamo. Sì. Manit. Tanto scarta prima lui. Ah. Certo che se lui attacca, buona... Perché? Finché siamo cinque. Fa sei danni, lui. Ah, lo facciamo adesso. Se la counter è forte. Vai. Se la counter vince. Ma non ce l'ha. E noi non vediamo Mass Removile. Abbiamo pescato tre terre, ma saremo sfiga ma... È un heroes downfall, però, eh. Ah, però è indistruttibile se sacrifica il core. Ma pensa a Teo. È indistruttibile se sacrifica? Il... Lo snapcaster. Mmm. Vai. Mmm. 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 Eh, ancora sta... Sta facendo lui. Perché non gioia dei minuti? Ah. Ho sbagliato. Oh, pala! Ok, allora, vediamo cosa possiamo fare. Giochiamo a terra. Sì. Potremmo fare un... No, ma... Perfetto. Sei e tre nove del heroes downfall. Su questo, però. Che cosa? Su di lui. Sono sacrificamente segnalino. Spaccarei Liliana. Perché ti spacca una creatura. Mmm. Va bene. Ti permetti... Sì, fa più male. Poi gli fai la vendiglia un click, però lui lo rende indistruttibile. Stiamo come il cazzo, lo stesso. Dei cali e Terling è un 4-1. Eh, ma non la para mica, eh. Questo qua vola. Ma che figlio di... Oii. Vabbè. Un cazzo. Un cazzo. 3-3... Ci dà fastidio tutto? 3-3? Ci dà più fastidio il volare? Sì, sì, sì. Beh, però quello lì... Ah! Questo lo counteriamo. Sì, ma lui non ha palude. Ah, bene. Sì che ce l'ha. Ah. Ma hai pensato fosse una guida. Mmm. Counteriamo comunque. Senza riprendere in mano. Bocchi game lungo. Tenere botta fino alla fine. Dobbiamo prendere anche un danno. Pris. Eh sì. Lo farà. Lo farà. 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 Dai. Crepa. Dai, oi, ce la tiri in faccia. Sacrifico questo. 5-2 indistruttibile. Noi dobbiamo impararci. Togli creatura. No, adesso lui ci fa un fulmine sulla Vendillion. Attacca solo con lui, vai, addirittura. Boh. Finocchio. Ne ha uno? No. Mmm... No. Tanto è uguale. Esatto. Non è... No, se andiamo a uno però sopravviviamo. A meno che non abbia un botto. Non ce l'ha il botto. Io andrei a uno. Dai, vai, vai, vai. Ecco. No. Hai visto Shock? Bravo. Permettimi che se peschi Fetch la facciamo. Mmm. Porca merda che sfega. Perché? Perché la fa indistruttibile. Ah, però noi la possiamo... Sì. Cosa? Noi la possiamo tirare lo stesso. Tirare cosa? Aspetta. Fa ira di Dio e questa la spacchi. Se la rende indistruttibile, il turno dopo non lo sarà e la pariamo con la Vendillion. Distruggi tutti. Brzz. Eh sì. 5-2. Sì? Gli attacca più uno più uno. Sì, mette segnalino più uno più uno ed è indistruttibile fino alla fine del turno se le sacrifichi un umano. No. No. Le sacrifichi una creatura è indistruttibile. Se è un umano le metti il counter. Ma ancora la pasta che ha fatto la paura del counter. Vabbè? Sei forte. Stai per fare qualcosa allora. Vabbè, siamo a uno. Siamo stati anche eroici. Sì, esatto. Boom. No, cagano la creatura, secondo me. Quella è la creatura che... Cosa fa? Animali morti. No. Ritira su i removal. Sì, sì. No, chieda su la creatura. Meno uno. Quella chieda a meno uno. No, no, no. Sì. Ok. Bravo. Ok, e anche match... Oh, dai. Portiamo a casa il match fufa? Dobbiamo assolutamente portare a casa il match fufa. Sì. Beh, sconfitti ma tutto sommato... Yepe, 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 yepe. Ok. tutto sommato soddisfatti almeno abbiamo giocato non siamo stati arati come l'altra sera il nostro primo cubo è stato un welcome abbastanza traumatico più fatti che soddisf esatto